Ancora pochi giorni e la Regione Marche emanerà un'ordinanza anti-sprechi d'acqua che uniformi i razionamenti a livello regionale. Purtroppo nulla di strano verrebbe da dire, perché le limitazioni all'uso dell'acqua idropotabile ad utilizzi come lavaggi di auto e cortili oppure di irrigazioni di orti e giardini durante il giorno sono praticamente diventati la prassi di ogni estate. La differenza è che quest'anno simili provvedimenti rischiano di arrivare con almeno un mese d'anticipo e tutta un'estate davanti da affrontare. L'assessore regionale Stefano Aguzzi ha annunciato entro la fine del mese un provvedimento che uniformi i razionamenti dei vari comuni. A giorni verrà infatti convocato il Comitato di coordinamento fra Regione e Prefetture, un argomento che Aguzzi ha affrontato ieri durante la conferenza delle Regioni col Capo della Protezione Civile Nazionale Curcio. Per quel che riguarda la Regione Marchi ho fatto presente che ci sono già attualmente problemi sia per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e probabilmente si porrà le questioni anche per l'approvvigionamento idrico, diciamo per l'uso civile per le nostre abitazioni, soprattutto nel nord delle Marche dove ad esempio la città di Fano e la città di Pesaro preleva acqua dal fiume Metauro, la potabilizza e poi li mette nelle case. Il fiume Metauro è quasi a secco e ancora non pioverà e questa potrebbe essere una serie emergenza. Quindi dice Curcio che i prossimi giorni si cominceranno ad accettare da parte del Governo le richieste di stato di emergenza che provengono dalle Regioni. Dovranno essere stabilite dei criteri ma tanti criteri sono quelli che già conosciamo, l'emergenza in agricoltura, l'emergenza zootecnica dove manca acqua per gli animali e soprattutto l'emergenza uso potabile, uso civile. Noi credo che nelle Marche queste caratteristiche ai noi le avremo, le abbiamo già in parte e le avremo nelle prossime settimane. Quindi nel momento che si potrà fare richiesta allo stato di emergenza sicuramente le Marche faranno questa richiesta. Però non risolverà il problema, non è che poi ci portano l'acqua da Roma. Di conseguenza tutt'al più questo stato di emergenza potrebbe essere poi un futuro ristoro per chi ha dei danni, per chi ha delle spese aggiuntive. In provincia di Pesero Orbino Marche Multiservizi ha già aperto i potabilizzatori di pole, macerata feltra e mercatello sul metauro, un'altra procedura che normalmente viene effettuata a metà luglio. Marche Multiservizi che da anni continua a sollecitare territorio e amministrazioni sul prendere una decisione repentina per realizzare un invaso. Appello che l'amministratore delegato Mauro Tiviroli aveva sollecitato anche ai microfoni di Rossini TV in tempi non sospetti. Noi soffriamo moltissimo perché abbiamo l'84% malcontato di acqua di superficie, quindi fiumi che non sono fiumi sono a carattere torrentizio, sorgenti che sono estremamente e posti che sono superficiali e quindi risentono immediatamente e troppo velocemente di quello che è l'andamento climatico e della siccità. Proprio per questo abbiamo lanciato l'anno scorso e oggi si sta riprendendo il ragionamento di realizzare un invaso, qualcuno dice che ne servirebbero due, forse ha anche ragione, perché sarà l'unico modo per affrontare in futuro l'approvvigionamento idrico. Quindi l'unico modo intelligente che l'uomo possa affrontare questa tematica è quella di realizzare un invaso per captare le piogge, trattenerne e avere un uso importante.